La vettura che vi andiamo a presentare oggi è una Abarth 595 di febbraio 2016, 19.737 km, 1.4, 160 CV. All'interno troviamo radio cd, climatizzatore manuale, volante in pelle con comandi al volante, il battitacco in acciaio. Sono presenti i cerchi in lega da 17. Il colore della vettura è nero ed è dotato di fendinebbia.